è per quello che dico facciamo il giro di qua dai tanto si può incrociare vieni vieni via la prima l'ha fatta tutta senza i limiti la prima l'ha fatta tutta senza i limiti eh ma l'ha fatta tutta senza i limiti adesso la fai stando dentro però e non uscendo è facile l'hai fatta a piedi Lele bravo vai tre volte e devono imparare vediamo dove sbagli te ascolta Spampi mi ciulava sempre le gare perché mandava avanti il paolo dove sbagliava il paolo lui la faceva giusta il bastardo mi ciulava tutte le volte e lì è esatto la devi far così perché se gli dai tanto non serve a niente là è più difficile che devi usare il peso tanto bravo lì scivola vabbè io volendo prenderlo qua si ne ha fatta metà in un modo e metà nell'altro va bene vediamo Lele dove bravo e 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 vedi dove è sbagliato anche lui usa tutto quello che puoi vicino alla piazza vieni va bene va bene peso peso quando apri indietro guarda lui dove va guarda lui dove va bravo bravo e ma guarda che l'ha fatta a zero eh oh l'ha fatta a zero quella furvetta lì ma come cacchio fai oh fermo eppure l'ha fatta cacchio bravo solo un po' più veloce è fatta bene sai perché perché la stringi allarga la futta